benvenuti sul mio canale oggi vi presento il primo cardigan della stagione autunnale è veramente spettacolare caldo con un punto molto particolare è una lavorazione a pannello quando abbiamo lavorato questo punto andiamo a girarlo in verticale e iniziamo le cuciture facile da realizzare passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial il filato scelto per questo tutorial è arlecchina una confezione di 500 grammi troviamo su questa confezione 10 gomitoli per poter lavorare il nostro cardigan allora il filato è meraviglioso questo è il color jeans sono 50 grammi a gomitolo è un misto alpaca con una fettuccia stampata lucida la composizione di 15 per cento alpaca 15 per cento agrilico e 42 per cento poliamide e il 28 per cento di poliestere la lunghezza è di 100 metri consigliano i ferri dal 7 al 9 all'uncinetto dal 6 all'8 veramente un filato meraviglioso vi faccio vedere il cardigan da vicino allora un cardigan molto morbido comodo un oversize elegante ma anche sportivo diciamo sia un legante sportivo per quanto riguarda le mani che ho ripetuto lo stesso motivo e io vi ricordo di fare sempre attenzione a prendere bene la misura perché poi le maniche ovviamente il punto quando si indossa cede un pochino rischiamo di farle più lungo del salto se dovesse succedere insomma vi consiglio di girare il polsino però di questa misura con la mia taglia devo dire ed è perfetto ora possiamo decidere di mettere i bottoncini ho realizzato un bel collo importante un bel collo importante come vedete il punto è a rilievo a qualche riga diciamo al rilievo sia diciamo all'inizio a fine motivo è particolare si ripete anche dietro sono dei pannelli ma io vi lascio adesso tutte le misure tutte le indicazioni per poterlo realizzare allora prima di iniziare ovviamente il nostro cardigan dobbiamo fare un pochino di conti semplicissimi semplici e veloci alla prima cosa da fare prende la nostra circonferenza vita o la circonferenza del seno proprio per determinare qual è il punto diciamo più più generoso nel mio caso è la circonferenza seno che è cento ovviamente ho aggiunto un 10 per cento di più di agio per renderlo più comodo ma vi ricordo che questo punto cede tantissimo cioè si allarga molto per cui per quello oversize perché ha sicuramente una taglia ma anche due taglie due taglie di più per cui resta molto morbido e molto comodo allora la lavorazione come abbiamo visto è una lavorazione a pannello come andiamo a lavorare la lavorazione dobbiamo andare a lavorare è sempre una lavorazione di uncinetto uncinetto classico ma andiamo a lavorare il punto quando abbiamo terminato dobbiamo girare il pannello in verticale questo fa sì che il nostro punto insomma si legge in un modo diverso come andiamo a lavorare ovviamente dobbiamo prendere la lunghezza la lunghezza perché il nostro vedete questo è il bordo andiamo a lavorare proprio la lunghezza del nostro cardigan allora nel mio caso sono 60 centimetri allora ho determinato che il mio cardigan sarà 60 cm e ha un bordo come vedete di maglie mezze maglie alte allora possiamo ovviamente decidere quanto bordo possiamo andare a realizzare io ho deciso di otto maglie vi do anche la misura perché potete determinare anche un bordo più ampio sono circa di otto centimetri allora il mio campione risulta con questo filato 10 cm 10 maglie per cui per me è stato abbastanza insomma semplici all'incirca ma vedete cede molto cede molto prendere la misura insomma super perfetta sul campione sì ma poi quando andiamo a lavorare quando si indossa c'è da un pochino potrebbe prendere qualche qualche centimetro allora andiamo a lavorare quando andiamo a lavorare la lunghezza vado ad avviare 8 maglie per il bordo e il resto delle maglie 57 è un multiplo di 4 più una per realizzare il nostro disegno questo fa sì che noi vogliamo cambiare la misura renderlo lungo renderlo corto possiamo fare un calcolo diverso per cui abbiamo un totale di 65 65 maglie semplicissimi avvio 65 maglie vado a lavorare 8 maglie di mezza maglia alta in costa retro e adesso andiamo a vedere il punto che poi si ripete la stessa cosa la vado a realizzare per i pannelli davanti vado avviare il pan il primo pannello con metà scollatura vado ad avviare sempre 65 catenelle perché abbiamo lo stesso bordo ovviamente con mezza maglia alta in costa retro e poi facciamo il nostro punto fantasia quando arrivo alla misura che mi occorre per fare lo scollo che poi andremo a vedere per fare la misura che arriva al nostro scollo io non vado lascio in sospeso 12 maglie cioè 12 maglie non le vado a lavorare e continuo tranquillamente a lavorare il mio punto fantasia tanto è un multiplo di 4 e sono tranquilla per cui essendo un multiplo di 4 posso lasciare 12 maglie quando andiamo a lavorare l'altro pannello non possiamo lavorarlo dalla parte più lunga ma dobbiamo lavorarlo dalla parte più corta perché essendo che ci sono delle lavorazioni in costa retro e il punto ovviamente risulterebbe poi un rovescio del lavoro allora in questo caso andiamo a lavorare la parte più corta e andiamo ad avviare delle maglie differenti confronto ovviamente la parte lunga ovviamente andiamo a lavorare meno 12 maglie per cui andiamo a lavorare questo lato lo vado a scrivere 53 non scrive lo scrivo di lato andiamo a lavorare 53 maglie ovviamente sono 65 meno le 12 quando arriviamo alla stessa larghezza dello scollo andiamo ad aumentare le 12 catenelle semplicissimo nel giro in cui è parallelo all'altra andiamo a lavorare 12 catenelle lavorando 12 catenelle facciamo sempre il nostro disegno è facile una lavorazione diversa ovviamente noi andiamo a lavorare sempre in questo modo e poi il risultato lo dobbiamo girare in verticale per quanto riguarda le maniche quanto riguarda le maniche io vado a lavorare 45 catenelle per cui abbiamo le maniche 45 catenelle 8 il nostro bordo e 37 è il punto fantasia vi ricordo che sempre un multiplo di 4 più una per cui andiamo a rivedere tutte tutte le avvio delle catenelle abbiamo il pannello dietro 65 catenelle ovviamente comprese le 8 abbiamo il davanti metà davanti abbiamo 65 ovviamente lo stesso poi dobbiamo andare a scalare le 12 ovviamente poi abbiamo le 12 che sono qui poi dobbiamo andare a lavorare 53 meno le 12 perché dobbiamo a lavorare andiamo a lavorare il lato corto e per quanto riguarda la manica sono 45 ricordiamoci sempre che abbiamo 8 maglie 8 maglie per il nostro bordo per la manica io invece di andare a lavorare mezza maglia alta sono andata a lavorare mezza maglia alta chiusa per rendere il polsino leggermente più stretto così non dobbiamo realizzare assolutamente nessuna diminuzione a vedere la costruzione dobbiamo realizzare prima un pannello dietro e vi do subito le misure di ogni pannello in maniera di poter lavorare con tutta tranquillità io ho lavorato un pannello dietro con un piccolo porto vi dico subito la larghezza che è di circa circa 60 centimetri di larghezza e la lunghezza questo poi dipende sempre da quanto voi lo volete lungo perché andiamo a prendere sempre sui 60 centimetri sempre sui 60 centimetri allora la lavorazione ovviamente è questa noi dobbiamo andare a lavorare la lunghezza per poi man mano che si aggiungeranno le righe otteniamo la larghezza cui ottenuto il primo pannello andiamo a girarlo e questo è il risultato per cui il primo pannello sarà dietro andiamo a vedere quelli davanti per quanto riguarda i pannelli davanti andiamo sempre a lavorare ovviamente nel modo naturale ma questo è l'effetto che noi abbiamo quando andiamo a lavorare poi dobbiamo girare girare il pannello per cui il primo pannello che andiamo a lavorare andiamo a prendere la misura la misura sempre del nostro pannello dietro andiamo a lavorare e ho ovviamente per il collo lasciato una scollatura perché comunque dobbiamo poi fare una rifinitura io ho lasciato 12 maglie fermata 12 maglie lavoro tranquillamente i punti è il nostro il nostro disegno nel pannello successivo a differenza noi dobbiamo andare a lavorare prima il lato più corto ovviamente e poi fare gli aumenti di 12 aggiungere 12 catenelle ma è semplicissimo per cui questo è molto importante non dobbiamo iniziare dalla parte opposta perché poi il disegno ovviamente non viene bene e abbiamo andiamo a lavorare a rovescio del lavoro per cui l'importante che da un lato andiamo a lavorare le stesse catenelle del pannello dietro e questo è importante e quando arriviamo allo scollo lasciamo 12 maglie e andiamo a lavorare ok invece in quello successivo adesso io giro il lavoro ma comunque come vedete qui ci sono delle maglie a rilievo per cui non possiamo girare il lavoro come se dovessimo lavorare una maglia alta e questo è impossibile per cui se lavorando del soltanto maglie alte questo si può fare perché comunque il rovescio non si vede tanto anche se poi alla fine un pochino si vede allora in questo caso andiamo a lavorare invece le maglie con lo scollo già direttamente e poi andiamo aumentare le 12 maglie questo nel mio caso 12 poi andiamo a lavorare le maniche andiamo a lavorare le maniche a differenza io ho lavorato il bordo davanti e dietro dei pannelli ho lavorato come bordo una mezza maglia alta tranquillamente sempre in costa retro in questo caso l'ho lavorata chiusa mezza maglia alta chiusa per rendere un polsino un pochino più stretto sono sarebbe stato più largo e in questo caso non dobbiamo fare nessuna diminuzione quando andiamo a lavorare la maglia ovviamente dobbiamo prendere bene la misura del nostro braccio fatti due pannelli accostiamo i due pannelli con il centimetro andiamo a vedere e a misurare la manica in questo caso abbiamo all'incirca 45 centimetri per la mia manica mi raccomando ricordate che quando andiamo a misurare questa è la nostra larghezza poi dobbiamo mettere la manica in questo modo lo andiamo a cucire il peso allunga leggermente allunga leggermente ovviamente la mania più fate attenzione di non renderla troppo lunga neanche troppo corta per cui le giuste le giuste misure adesso che abbiamo visto la costruzione andiamo a vedere i punti e iniziamo il nostro mi ricordo che per ogni pannello c'è un avvio diverso allora per il pannello dietro e avanti andiamo a lavorare 8 8 maglie mezze maglie alte invece per la manica andiamo a lavorare le 8 maglie però mezza maglia alta chiusa adesso vi faccio vedere quella con la mezza maglia alta e poi faccio vedere quella chiusa allora andiamo avviare dopo aver determinato quante catenelle dobbiamo avviare vi ricordo che il punto fantasia è un multiplo di 4 più una adesso vado a realizzare una catenella e lavoro ogni punto mezza maglia alta ne vado a lavorare 8 questa è la terza la quinta la quinta la quinta la sesta la settima e l'ottava allora ogni volta che andiamo a lavorare il bordo andiamo a lavorare in costa retro vi ricordo sempre che sia per la mezza maglia alta e sia per la mezza maglia alta chiusa iniziamo il punto allora adesso andiamo a lavorare tutti i punti della nostra prima riga semplicemente delle maglie alte fino al termine solo maglie alte la prima riga in questo modo adesso che ho concluso la prima riga mi alzo di quattro catenelle tre catenelle corrispondono a una maglia alta e una catenella di separazione adesso vado a lavorare dei punti saltando il punto di base vado in quello successivo e lavora una maglia alta una catenella salto un punto di base e vado in quello successivo catenella ancora salto e vado in quello successivo proseguo fino al termine fino a arrivare alle otto maglie che ovviamente dovrò lavorare il bordo in tal caso possiamo sempre mettere un marca punti per poterci dare un punto di riferimento qualora non vediamo dove iniziare a realizzare le mezze maglie alte adesso vado a realizzare in costa retro delle mezze maglie alte vado a lavorare fino al termine quando arriviamo all'ultima fate sempre attenzione di non saltarla per cui contate sempre oppure mettete un marca punti che come vedete abbiamo realizzato questa fa parte ovviamente del punto fantasia ma iniziamo da qui con la mezza maglia alta e sono uno due tre quattro cinque sei sette e otto adesso che abbiamo realizzato le nostre otto maglie vado a realizzare una catenella e volto il lavoro siccome fa sempre parte il bordo vado di nuovo a realizzare le otto maglie sempre in costa retro vado leggermente più veloce semplicemente che il punto già lo avete visto contate sempre mi raccomando perché è facile sbagliare poi la prima maglia perché la prima maglia è questa per cui andate sempre a contare 1 1 2 3 4 5 6 7 e adesso che sono state realizzate le otto maglie del bordo vado a lavorare come vedete la prima maglia non saltate la mi raccomando perché può succedere che si salta che sembra che potrebbe essere potrebbe succedere che può saltare allora vado a lavorare una maglia alta in questo giro terzo giro vado a lavorare maglie alte punto su cosa significa lavoro la maglia alta sulla maglia alta e dove c'è la catenella prendo il filo e passo sotto e lavoro la maglia alta per cui per ogni punto una maglia alta tanto il le righe lavorate saranno sempre le stesse per cui basta poi memorizzare un attimino allora proseguo fino arrivare al termine della riga come vedete ho quasi terminato lavorato la catenella ma non dimenticare di entrare nella terza catenella perché è una maglia alta e andare a lavorare la maglia alta se non facciamo una una maglia e meno ora catenella e volto il lavoro vado a lavorare ora come sequenza mezze maglie alte sempre prendo tutto il punto non in costa retro ma prendo tutto il punto per cui vado a lavorare punto su punto mezza maglia alta quando arrivo ovviamente alle 8 maglie del bordo vado a lavorare in costa retro adesso abbiamo le otto maglie prendo il filo e vado a lavorare in costa retro sempre mezza maglia alta poi torno indietro al lavoro di nuovo le otto maglie quando non riusciamo a prendere il punto possiamo entrare con l'uncinetto e girarlo in questo modo riusciamo a prendere la catenella che dobbiamo lavorare catenella e porti il lavoro adesso che abbiamo realizzato diciamo la base dobbiamo sempre lavorare le otto maglie perché il bordo resta sempre lo stesso e poi iniziamo di nuovo il punto fantasia adesso che abbiamo realizzato tutte le mezze maglie alte in costa retro andiamo a lavorare il punto continuiamo adesso a lavorare in costa retro per questa riga che è la quinta per cui la quinta riga la andiamo a lavorare in costa retro prendo il primo punto e realizza una maglia alta e la lascio in sospeso prendo il filo vado sul secondo punto lavoro la maglia alta e la vado a chiudere insieme in questo modo cinque catenelle 1 2 3 4 5 salto un punto di base vado in quello successivo prendo il filo lavoro in costa retro e lavoro la prima maglia in sospeso la seconda maglia in sospeso la terza maglia in sospeso prendo il filo e lo vado a chiudere per cui sono tre maglie alte chiuse insieme cinque catenelle ancora salto un punto di base vado in quello successivo sempre in costa retro chiudo tre maglie alte insieme lascio in sospeso la seconda in sospeso la terza in sospeso prendo il filo e vado a chiudere allora andiamo ancora a lavorare il punto sempre tre maglie costa retro prese e chiuse insieme con cinque catenelle di separazione facciamo ancora 5 catenelle per chiudere saltiamo sempre un punto e andiamo a realizzare la prima maglia alta di chiusura sul punto lasciamo in sospeso e vado a prendere il punto successivo fatto piccolino eccolo qui e andiamo a realizzare due maglie e vado a chiudere per cui abbiamo sia l'inizio che la fine uguali ok per cui abbiamo un multiplo di 4 più una ed è perfetta adesso andiamo a realizzare una catenella volto il lavoro adesso che vado a lavorare sotto un punto una mezza maglia alta per questa qui è la sesta riga vado a lavorare due catenelle entro dentro all'archetto al primo archetto ovviamente e lavoro una maglia bassa adesso vado a lavorare cinque catenelle e lavoro tutti gli archetti per cui vado in quello successivo e chiudo 1 2 3 4 e 5 e chiudo 1 abbiamo ancora un archetto 2 3 4 e 5 abbiamo fatti giusti 1 2 3 4 neanche ne manca 15 vado in quello successivo ora dobbiamo chiudere come chiudiamo dobbiamo realizzare due catenelle e entrare nella prima maglia mi raccomando qui il marcatore è importante perché 1 2 3 4 5 6 7 8 la prima maglia è questa eccola qui cui si potrebbe confondere per cui vi consiglio sempre di utilizzare un marca punti chiudiamo con una maglia ma una mezza maglia alta ecco qui vado adesso alla vera a lavorare in costa retro sempre il mio bordo che sono sempre le mezze maglie alte in costa retro proseguo sia andata che ritorno del nostro porto andiamo a lavorare il punto fantasia mi raccomando fate attenzione dopo aver lavorato le otto maglie la prima maglia in questa la prima maglia da lavorare mi raccomando che ci può essere confusione andiamo a lavorare la prima maglia alta la seconda maglia alta nel primo archetto quello piccolino una catenella vado a lavorare sugli archetti grandi prendo il filo entro nella terza catenella devo entrare proprio dentro alla terza catenella non sotto all'archetto ma dentro la catenella lavoro 3 maglie alte catenella e di nuovo vado sull'archetto successivo una terza catenella quella centrale e vado a lavorare 3 maglie alte la seconda e la terza catenella abbiamo ancora un archetto grande per cui vado a lavorare sempre tre maglie alte la prima la seconda e la terza catenella adesso come andiamo a concludere abbiamo un archetto piccolino per cui entrò dentro all'archetto piccolino e lavoro una maglia alta senza entrare dentro la catenella non occorre poi prendo il filo entro sulla maglia successiva perché era una mezza maglia alta e lavoro una maglia alta e abbiamo concluso la settima riga adesso catenella e volto il lavoro andiamo a realizzare l'ottava riga l'ottava riga è semplicissima lavoriamo punto su punto mezza maglia alta ricordiamoci che dove c'è la catenella entriamo sotto e lavoriamo la mezza maglia alta punto su punto per cui sulle maglie alte che appunto su punto quando c'è la catenella cosa facciamo prendiamo il filo e entriamo proprio sotto alla catenella abbiamo allora proseguiamo fino al termine e non dimenticate di lavorare sempre le otto ma adesso andiamo a lavorare come abbiamo lavorato il nostro bordo sempre in costa retro andiamo a lavorare il nostro punto andiamo a lavorare solo maglie alte in costa retro questo è la nona nona riga per cui andiamo a lavorare maglie alte in costa retro infatti ci darà questo effetto questa riga centrale come vedete come c'è da questa parte quando abbiamo lavorato i nostri ventagli chiusi allora proseguiamo sempre in costa retro fino al termine adesso andiamo a ripetere dalla seconda riga andiamo a ripetere dalla seconda riga per cui adesso un poi voi ripetete dalla seconda riga alla nona seconda riga alla nona allora la seconda riga come sappiamo dobbiamo fare le tre ma catenelle più 14 voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare i nostri quadratini con ripetiamo tutto ovviamente sempre con una catenella di separazione andiamo a lavorare a ripetere tutto dalla seconda riga per cui seconda arriviamo alla nona e poi ripetiamo e questo il nostro modulo che va ripetuto quando noi andiamo a lavorare adesso dispone attimino andiamo a lavorare e abbiamo lavorato la parte davanti la parte davanti per cui dobbiamo abbiamo fatto lo scollo abbiamo fatto lo scollo e noi vogliamo proseguire poi insomma quello decidere da quanti centimetri volo volete largo potrebbe essere questo più di largo più largo ancora oppure non farlo assolutamente quello dipende da voi voi dovete semplicemente aggiungere le catenelle in base a quanto lo vogliate alto il vostro scollo e questa è la parte davanti e da lì girare il lavoro e andare a lavorare io faccio una maglia alta se occorre fare la maglia alta e vado a lavorare tutti i punti del nostro schema perché questo dipende da quanto poi lo vogliamo lo vogliamo lo scollo invece quando dobbiamo fare lo scollo diciamo che lavoriamo tutta la parte lunga dobbiamo realizzare quella parte corta basta vabbè quello basta diminuire non lavorare le 12 maglie e abbiamo fatto il tutto insomma è semplicissimo bisogna giusto insomma ragionare sulle righe per quanto riguarda vado a lavorare la mezza maglia alta se dobbiamo realizzare le maniche è la mezza maglia alta io dispo la prima riga per farvi decidiamo di realizzare un polsino più stretto come l'ho realizzato io oppure lo fate più largo poi lo girate che può anche essere molto carino questo dipende se vi piace più morbido più stretto se sul fatto di realizzare o la mezza maglia alta oppure la mezza maglia alta chiusa per realizzare la mezza maglia chiusa vado a prendere il filo prendo il filo invece di riprenderlo il filo la vado a chiudere giro l'uncinetto dalla parte opposta e mi trovo subito il lavoro per cui prendo il filo e la vado a chiudere in questo modo prendo il filo e questa è la mezza maglia alta chiusa e la andiamo a lavorare per il port per il polsino del del nostro cardica questo dipende sempre se lo vogliamo più stretto in quel caso non c'è bisogno di fare diminuzioni oppure sempre l'opzione che può essere noi se è più larga e ci piace larga possiamo anche fare la manica più lunga per poter poi girare la nostra manica in questo modo è anche un effetto carino e cambia sicuramente in base ai gusti allora il punto è super semplice vi lascerò uno schemino nel blog in maniera che potete poi seguirlo se qualche punto insomma non riuscite insomma a memorizzare perché abbastanza lungo sono molte righe terminato il pannello dietro io ho realizzato diciamo un modulo vedete il primo il secondo il terzo il quarto vedete queste 1 2 3 4 e poi vado a chiudere ovviamente sempre con le maglie alte per il pannello davanti andiamo a vedere il pannello davanti quanti moduli ho realizzato vedete ho iniziato sempre dalla base ho fatto un modulo e il secondo e vado a chiudere con la mezza maglia alta e una maglia alta in maniera che in questo caso abbiamo fatto una conclusione del nostro pannello e questa cosa andiamo a realizzare anche nel pannello nell'altro pannello ovviamente andiamo a vedere che sono praticamente uguali eccoli qui qui andiamo a iniziare prima andiamo a iniziare la nostra lavorazione con il modulo e il secondo e vado a chiudere con una mezza maglia alta e maglia alta quando vado ad iniziare il secondo modulo ovviamente lo devo devo partire dal da uguale per cui vado a partire con la maglia alta mezza maglia alta e poi il disegno non posso partire ovviamente con diciamo il forato a quadretti non posso perché devo proseguire per proseguire vado ad avviare prima le maglie che sono anche da bordo vedere speculare e poi vado a lavorare tranquillamente il punto per cui una maglia alta una mezza maglia alta e vado a lavorare tranquillamente come se iniziamo il modulo da sopra la lavorazione forata vedete questa forata a quadretti diciamo quadretti in maniera di renderla diversa da questa questa fantasia ecco qui dobbiamo partire proprio da qui per cui partiamo dalla maglia alta mezza maglia alta il nostro punto prosegue adesso iniziamo le cuciture per iniziare le cuciture mettiamo ovviamente il rovescio del lavoro il dritto deve stare all'interno e ne accorgete anche che dove ci sono i punti vedete a rilievo questo è il dritto vado a mettere a rovescio in questo caso la parte davanti e anche la parte opposta eccola qui adesso andiamo a cucire i nostri le nostre spalle e poi i laterali ovviamente noi abbiamo preso anche la misura dello scalfo perché quando abbiamo realizzato le maniche ovviamente dobbiamo decidere come le vogliamo realizzare allora se sono più larghe o sono più strette adesso iniziamo la cucitura allora terminata la manica come vedete noi abbiamo fatto una mezza maglia alta in maniera che il polsino resta e non dobbiamo assolutamente fare le diminuzioni allora per il disegno diciamo il disegno moltiplicato io ho fatto un disegno il secondo e l'altro a metà perché io vado a chiudere in maniera che poi ha un seguito vedete non sono andata a realizzare le maglie le maglie alte in questo caso ha una larghezza giusta che andiamo subito a vedere abbiamo uno scalfo di 21 cm chiuso per cui 42 quando andiamo insomma ad aprire la nostra manica ed è perfetto andiamo a cucire le spalle i laterali all'ultimo e all'ultimo le maniche allora adesso che ho terminato di cucire vedete ho finito di cucire le maniche tutto il laterale per cui è facile come vi ho fatto vedere ci vuole un pochino un pochino di pazienza ora dobbiamo andare a rifinire abbiamo una scollatura abbastanza profonda possiamo decidere di andare a fare un collo più alto oppure un collo più piccolo per quanto riguarda il davanti possiamo variare proprio con tantissimi punti possiamo riprendere il punto il punto brioche se vogliamo in costa retro facendo sempre delle lavorazioni ovviamente andiamo a lavorare in un modo diverso da quello classico con l'uncinetto oppure possiamo lavorare delle maglie a rilievo allora se vogliamo fare delle maglie a rilievo andiamo a girare il nostro cardigan abbiamo il davanti ci occupiamo prima del davanti o andiamo a lavorare prima tutta la linea e poi il collo con dei punti bassi perché dobbiamo andare a rinforzare il nostro collo e andiamo a lavorare punto su punto dove abbiamo una maglia alta lavoriamo due maglie basse e dove abbiamo una maglia una bar una maglia soltanto andiamo a lavorare una maglia tranquillamente ovviamente io parlo di quella distesa di lato se abbiamo una maglia alta qui faremo due maglie basse se vogliamo lavorare a maglia bassa tutto intorno oppure possiamo iniziare subito a rilievo davanti dare un bordo andiamo a lavorare due volte davanti sia anche dall'altra parte e poi andiamo a rifinire il collo questo sempre in base a come ci piace adesso mi vado ad agganciare prova all'inizio del cardigan vado a lavorare una maglia bassa oppure solo una catenella come preferite adesso andiamo a lavorare le maglie subito a rilievo la vado a lavorare subito una maglia alta rilievo una davanti e una dietro questo renderà il nostro cardigan ancora più sportivo ma possiamo sempre decidere di andare a lavorare solo una piccola rifinitura io in questo caso vado a lavorare una maglia rilievo davanti e una maglia rilievo dietro proprio per creare un pochino più di bordo e di spessore andiamo a nascondere bene il filo dietro adesso ho fatto tutta la linea davanti una sola riga sia a destra che a sinistra facciamo lo scollo ci andiamo agganciare lavoriamo delle maglie alte se preferite anche delle maglie basse allora io per ogni maglia distesa vado a lavorare due maglie alte per cui qui c'è un solo punto lavoro una maglia alta non vado a lavorare delle maglie in più ma vado a lavorare sempre delle giuste maglie perché non ci troviamo che facciamo troppe maglie davanti ma invece deve essere più lineare possibile quando ci troviamo qui vedete che inizia il punto diciamo quello laterale io vado a lavorare tranquillamente delle maglie alte punto su punto e questo è il nostro scollo allora io vado avanti ma vado poi a lavorare delle maglie rilievo posso fare due tre giri quattro giri in base al collo alto che noi vogliamo quanto lo vogliamo largo e quanto ci piace questa abbastanza una scollatura profonda per cui possiamo fare solo un piccolo giro se ci piace metterlo sotto una camicia non vogliamo un collo troppo troppo alto poi se ci piace più alto possiamo fare più giri in maniera di renderlo un collo diciamo più che copre di più diciamo la base del collo ha terminato il collo allora ho fatto sei giri e l'ultimo sempre a rilievo di maglie basse proprio per andare un pochino a stringere stringere un pochino di più se vedete che troppo largo potete anche lavorare con un 6 e con un 6 dal 7 passare al 6 con l'uncinetto potete poi comunque vedere se sia troppo lento oppure no a me è andato benissimo con l'uncinetto 7 ho fatto sei giri non fatti tanti un bel po perché lo volevo alto e poi all'ultimo ho lavorato un giro di maglie basse sempre in costa davanti e sempre a rilievo davanti ea rilievo dietro allora il davanti l'abbiamo ovviamente concluso in questo modo ma possiamo sempre fare più giri insomma questo poi in base a come vi piace di più le mani che sono state attaccate come vedete è molto largo ma molto molto morbido morbidissimo abbiamo il sotto abbiamo tolto dico abbiamo perché la cosa che ci fa insomma a penare di più e togliere tutte le codine no questa volta sono stata attentissima di togliere tutte le codine e devo dire che anche la manica è perfetta ovviamente quando fate la manica già ve l'ho detto insomma in tantissimi video quando facciamo questa lavorazione attenzione perché comunque la manica cede un pochino come avete visto nel video l'ho fatta veramente precisa e dovete fare attenzione perché sembra corta la manica ma in realtà è abbastanza abbastanza comoda siete arrivati alla fine del tutorial come avete visto vi ho lasciato tutte le indicazioni possibili per realizzarlo facile oversize caldo ma possiamo decidere anche di farlo su misura invece di realizzarlo quel 10 per cento 15 per cento più di agio la lavorazione è fantastica perché andiamo a lavorare come avete visto un punto spettacolare e poi andiamo a girare il pannello e iniziamo le cuciture l'unica attenzione è sulle maniche dobbiamo fare attenzione perché quando andiamo a lavorare rischiamo di renderle o troppo lunghe oppure corte per cui l'attenzione è importante prendere bene la misura e poi fare diciamo tirare un pochino il nostro pannello per della manica per vedere se si risulta troppo lunga perché comunque cede cede un pochino un pochino alla manica allora possiamo decidere di mettere dei bottoni perché no possiamo mettere dei bottoni e ancora devo metterli io ho realizzato un collo non troppo alto ma possiamo realizzarlo più alto più ampio più scollato e poi la lavorazione come avete visto dei pannelli quando realizziamo il pannello davanti ha un tipo di lavorazione il secondo pannello ne ha un altro per cui questo bisogna fare un pochino d'attenzione sul punto ma è facile da memorizzare e vi ricordo che nel blog vi lascio comunque un grafico da seguire ci sono tutte le foto le foto che sono sempre utili e qualche suggerimento in più spero che questo tutorial vi sia piaciuto seguitemi su instagram ma anche sul blog se volete e poi se vogliamo parlare un pochino anche sul mio gruppo se avete possiamo aprire una chat e vedere se ci sono qualche punto di aiuto io sono sempre disponibile arrivederci e ci vediamo ai prossimi tutorial